ciao il libro di cui voglio parlarti oggi è davvero monumentale quasi 300 pagine 240 fotografie un formato estremamente voluminoso e direi lussuoso si tratta di forms of japan di michael kenna michael kenna è un fotografo di paesaggio molto molto famoso riconosciuto soprattutto come il maestro di un certo genere fotografico detto minimalista britannico di nascita vive negli stati uniti ma ha girato mezzo mondo realizzando numerosissimi progetti anche in italia ad esempio sul fiume po o sull'abruzzo ma ha sempre dichiarato che il giappone è davvero il paese in cui si sente più ispirato in cui sente più profonda la connessione appunto con il paesaggio con con i luoghi la cosa singolare che in questo libro del giappone in verità non vediamo moltissimo ci sono foto chiaramente realizzate in giappone ad esempio dei giardini zen o di statue di buddha ma la gran parte delle foto rappresenta dei paesaggi per esempio innevati o comunque abbastanza astratti che in verità potrebbero essere stati realizzati in molte altre parti del mondo ma la logica di kenna è che la sua è una fotografia molto personale molto intima molto spirituale dunque se i luoghi possono anche essere simili tra loro è l'autore a cambiare a seconda del luogo in cui si trova per questa profonda ispirazione che lui sente quando si trova in giappone è l'elemento centrale appunto di questo libro il libro è firmato in realtà da due autori uno è michael kenna cioè colui che ha realizzato le fotografie l'altra è yvonne mayer lore cioè la curatrice bene ma andiamo ad approfondire la conoscenza di questo libro bene entriamo nel nel libro e subito c'è una dichiarazione una doppia dichiarazione di intenti la prima foto infatti è un tori un portale che è tipico giapponese si trova spesso sui laghi o vicino al mare e quindi da un lato ci dice subito che parliamo del giappone ma dall'altro è anche un invito un ingresso ci dice entrate e e noi entriamo e troviamo una delle foto di uno dei soggetti più famosi di ken appunto il cussaro lake tree cioè questo albero che ken ha fotografato in molteplici occasioni in due foto sostanzialmente riassunto diciamo così il tema del dell'intero dell'intero libro il libro è suddiviso in cinque capitoli ognuno dei quali rappresenta una forma cominciamo dal mare che rappresenta appunto le forme dell'isolamento la cultura giapponese è cresciuta isolata dal mare per secoli non ha avuto che rarissimi contatti con le culture altre di altri paesi del del globo questo ha ancora oggi un peso importante nella cultura della della regione questo isolamento questo senso di esclusività di differenza della cultura giapponese rispetto a tutte le altre culture ci sono degli elementi come dire che spesso ritroviamo appunto nelle nelle fotografie i pali i pontili pontili che non si dirigono verso qualcosa porticcioli che non hanno barche pali appunto infissi nell'acqua i pali sono un elemento che tornerà spesso nelle altre nelle nelle foto di kenna tra le foto più famose di kenna ci sono questa appunto con questi pali con questi elementi persi nel bianco può essere il bianco della neve può essere il biancore del dell'acqua con i tempi di scatto lunghi è davvero sono foto vuote da un certo punto di vista qui c'è solo appunto questa serie di sei pali non c'è altro c'è una linea dell'orizzonte appena accennata ma questo appunto lo spazio negativo è qualcosa che richiamo moltissimo la cultura giapponese e quindi è come dire qualcosa che kenna ha sentito molto stando sul sul luogo e andiamo alla terra la terra chiaramente il giappone terra vulcanica in cui il monte fuji diventa anche una montagna sacra la sacralità del monte fuji la presenza degli altri vulcani parla davvero del del giappone chiaramente non esistono vulcani sono in giappone tuttavia è chiaro che il monte fuji è un un elemento che in tutto il mondo è riconosciuto come simbolo stesso del del giappone e la fortuna di kenna chiaramente è legata spesso agli alberi alberi il più delle volte solitari alberi da soli contro gli elementi che debbano quindi resistere o a volte perire di fronte alle difficoltà del diciamo del della meteorologia del clima ma naturalmente anche foreste una cosa tra l'altro curiosa ma interessante che nei titoli kenna enumera il diciamo gli elementi presenti per esempio questa foto si intitola seven trees cioè sette alberi perché gli alberi sono esattamente sette questo è qualcosa di legato all'attenzione noi non prestiamo abbastanza attenzione non non sappiamo quasi mai quanti sono gli elementi presenti nella scena a meno che non siano solo uno o due e invece kenna sottolina questo aspetto intitolando questa foto 60 alberi perché gli alberi sono 60 il l'atto di contare non è una cosa così meramente matematica è un gesto di attenzione ecco il di nuovo il cussaro lake tree l'albero del lago di cussaro l'albero è appunto stato scoperto nel 2002 da da kenna la questa foto è del 2002 queste sono del 2007 quindi è tornato più volte poi appunto nel 2009 l'albero è stato abbattuto per le forme della completezza si arriva alla parte dedicata allo spirito qui davvero vediamo il giappone o almeno come dire i paesi dell'estremo oriente con questi buddha con questi elementi di religiosità buddista zen di insomma che prende varie forme anche semplici elementi nel nel paesaggio dipinti giapponesi elementi insomma della della spiritualità della sacralità di questa di questa terra e naturalmente lanterne incensi e il classico giardino zen e giardino di senza piante ma solo con con la ghiaia rastrellata in forme particolari e infine la sezione dedicata al cielo il cielo è diciamo ha sempre una parte importante nella fotografia di di michael kenna comunque è un cielo ripreso come entità fisica ma di rado è il soggetto delle delle sue fotografie ma appunto qui invece noi vediamo diverse fotografie in cui il cielo diventa l'elemento importante il soggetto stesso delle 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 fotografie chiaramente queste foto sono poco riconducibili al giappone ma appunto come come detto il fatto di trovarsi lì quindi di riprendere il cielo del giappone è importante invece per l'autore che in altri contesti avrebbe fatto fotografie diverse il libro si chiude con questa foto che rompe con il rigore formale del del libro e mette insieme grazie probabilmente a un'esposizione multipla realizzata con la tua camera olga alcuni elementi che abbiamo visto sin qui gli alberi i simboli sacri la neve quindi una foto riassuntiva che chiude degnamente questo splendido libro grazie a tutti